Eccoci di ritorno dalla fiera Diciamo che un po' di acquisti li abbiamo fatti Siamo stati a Brescia Alla fiera creativa Uno spettacolo Nonostante mascherine e tutto il resto Comunque ci siamo divertiti Abbiamo preso un sacco di cose una più bella dell'altra come vedete Adesso vi mostro un po' in dettaglio Allora Da Merceria Mary Gentilissimo Di asti Ho preso la rete canvas Non mi ricordo più quanta ce ne è Ma mi sembra tipo un 60x40 4,90 euro Hanno preso due Poi ho preso Le tracolle per le borse Già con il gancetto Vedete Già con i due gancetti carini Mi sembra 3,4 euro l'uno E basta Da lei ho preso solo queste due cose Poi Appena si entrava Gratuita Ci facevano le mascherine Questa è mia Questa è di mia mamma Bello Piaciuta come idea Da un altro banco Che non mi ricordo come si chiama Perché non c'ho niente Ma gentilissima Ho preso questa La Malabrigo Worsted 100 grammi 192 metri Si lavora col 4,5-5,5 Superwash 100% merino Non so se si vede tanto bene Ma è una tinta Sul grigio Viola Un po' sfumato Uno spettacolo E io non ho lana così morbida Non l'ho mai vista Proprio Veramente Bellissimo Questa Mi sembra sui 14 euro l'una E mi ha dato anche Lo schema Per fare uno scialle Sempre da lei Ho preso Questi per le treccia 3 euro Che non li trovavo neanche a morire I micro uncinetti Porta chiavi Che c'è il 2,3 Mi sembra che è 2,3,4 O 3,4,5 Comunque una cosa del genere A me sono comodi Quando vado in giro A lavorare la maglia Perché magari Mi cadde la maglia E mi devo tirare fuori gli uncinetti Invece così Sono bello tranquillo Che ce l'ho sempre portato di mano 3 euro Poi gli aghi Infila facile Vediamo se riesce a mettere un po' fuoco Sì Li vedete come sono fatti Si infila il filo da sotto Si incastra E non va più via E non c'è bisogno di mettersi La lente di ingrandimento Tutte volte che devi infilare un ago 2,50 euro Sono 2,4,6,8,10,12 pezzi Comodissimo E basta Poi da un altro venditore Che aveva tutto mondial Ho preso queste due matasse L'Urex Sul senape verde Marrone Uno spettacolo Sì Lavoro con i feriti Dal 5 al 6 Ed è Mondial Zen 45 Nelle vergine merino 45 microfibra 7 Un'altra microfibra Il poliestere 100 grammi 160 metri Ma È di una morbidezza assurda Sarà per la microfibra Ma è uno spettacolo E ne ho prese due Visto che con due Lei ci ha fatto una sciarpa Una bella grande Che mi piaceva Poi Make Your Style Tappa fissa È una ragazza gentilissima Ha un banco spettacolare E io Gli frego sempre Sta catena qua Perché costa Pochissimo Tipo 2 euro al metro Io ne ho presi 5 metri A 10 euro Ed è uno spettacolo Quindi tutte le fiere Che vado Quando ce l'hai Gli prendo sta catena Perennemente Poi Aspetta Le coccole di Maria Jo Vende bottoni A non finire E charms E io ho preso 4 bici metro Qua c'è il Come si dice La rocca Poi ho preso Delle calamite Per le borse E dei cuoricini Made with love Mi sembra che ho preso 4 euro 4-5 euro Tutto Poi Da Aspettate Irresistibile Irresistibilmente Bello Roi Raro Individuale Raro Originale Individuale C'era tutti I ciondoli Particolari Doveva essere C'è anche la pagina Facebook E Instagram Ho preso I guanti Da box Sono spettacolari Mi sembrano Sapete quelli che aveva Rocky nel film La collana Col ciondolino Mi piaceva troppo Allora l'ho preso 2 euro Una cosa del genere Proprio belli Sono fatti proprio bene E ne avevo una marea Poi Dalla Maflis Mi sembra che si chiama Ho preso tutto Questo acrilico Che è il Cervinia Turchese Azzurro Blu Rosso No Questo arancione Panna Rosso Lilla Fucsia Verde Giallo E rosa Mi manca il viola Scuro Perché devo fare una borsa A mattonelle Poi Ho fatto l'affarone Gli ho chiesto Della lana merino E mi ha detto Vai a vedere la bijou Perché Sono le rimanenze Le stiamo facendo fuori Ma io Io ci vado a nozze Con queste cose Lo sapete 50 grammi 145 metri 100% Nana merino Restringibile Della roses 1 euro 80 A gomito Voi fate conto Che io Il minimo Che la pago Sono 2 euro 53 A gomito Perché poi Invece che 30 euro Un pacco L'ho pagato 18 Poi questo blu Spettacolare Mi farà una maglia A me E me ne avanza Anche Poi La pelle La pelle Dove la vado a prendere Sempre da Maggini Daniele Toscanaccio puro E Ho preso Una marea Di Ritagli Di pelle Ma Una pelle Spettacolare 10 euro 6 pezzi 6 ritagli Veramente Era 10 euro 4 Poi me ne ha regalati 2 Comunque Sono 6 Totale Poi Ultimo Acquisto Da Il filo Da Rihanna E lì ho fatto un po' di scorta Allora Iniziamo da qua Ho preso Devo fare una borsa Bianca e blu Cordino Thai blu Cordino Thai bianco Poi ho preso Di aghi da lana Che questi qua Con la punta morbida Sono spettacolari Mi sembra 2 euro Una cosa del genere Poi finalmente Ho trovato Un Di tale per me Taglia XL Forse Mi sta Perché mi sto Ammazzando le dita E mi sembra Sui 3 euro Questo 3 euro 50 Poi ho preso Questa qua Che non mi ricordo Se un euro o due Una cosa del genere Che ci voglio fare una borsa Si lavora con i ferri Del 8 o del 9 Ma io la farò su rete 100% microfibra 100 grammi 65 metri Morbidissimissimo Poi È un peluche Poi Sempre da lui È una vita Che io voglio comprare Il tricottino nuovo Eccolo qua Io avevo quello vecchio blu Che era Ormai distrutto Perdeva le maglie Un macello Questo è invece una bomba L'ho provato già in macchina Lo vedete scartato Perché ho già provato Ho già fatto le prove in macchina Mentre tornavamo Poi Sempre dal filo di Rihanna Aveva un Uno stand Tutto 5 euro A pacco Ravana Ravana Ho trovato 100% Lanna Merino Non è chissà che colore Però Sono Filati Yarns King Extra Io so che in giro Li trovo a 2 euro e 53 100% Australian Merino Irrestringibile Quindi direi che Cosa sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 centesimi A gomito Mi va bene Anche se non è chissà che colore Poi Questo qua Zarone Io conosco la zara E la zarina Questo qua Si vede che un po' più spesso Sarà di filatore di crosa Come gli altri Woolmark blend Va a sapere Comunque È 100% Merino E poi sotto C'era questo qua Che è una specie di Pellicetta E del cotone Che non me ne frega niente Però a me Mi piaceva questa Merino Quindi mi va bene Altro pacco Merino Sport 100% pura lana vergine Merino 50 grammi 125 metri 10 gomito 5 euro Mezzo chilo Direi che non a fare E Questo è tutto Quello che ho preso Alla fiera Bellissima Ancora c'è Sabato e Domenica Domani e Dopodomani Andateci a fare un giro Se vi è piaciuto Lasciatemi un like Mi raccomando Sotto Nell'info box Vi metto Se riesco Il link Dove ho comprato Queste cose E la mia pagina Facebook Così ci date un'occhiata E questo è tutto ragazzi Al prossimo video Ciao Ciao